Un altro passo verso la normalità. Da oggi, con l'ingresso della Toscana in zona bianca, anche sui mezzi pubblici si torna all'80% della capienza, dal 50% che era fino a ieri. A bordo restano le regole di sempre, ovvero distanzialmente in mascherina, ma se per un bus da 12 metri la capienza passa da 55 a 88 passeggeri, in quelli da 18 si passa a 131 con 115 persone in piedi e 39 a sedere, mentre in tramvia si arriva ben a 216 persone a bordo. Un discreto passo in avanti, anche se non ci sono più le scuole. Principali fruitrici del sistema, specialmente al mattino, con l'ingresso in zona bianca, spiega l'assessore regionale a trasporti Baccelli, ci sarà un aumento della mobilità che non ci deve far trovare impreparati. La necessità è quella di offrire un servizio puntuale ai cittadini, che torneranno a spostarsi più liberamente e con più frequenza. Gli autisti non ci stanno e da Faisa Cisal fanno sapere che già al 50% era difficile garantire lo spazio per tutti. Vedo come lo si possa fare ancora con più passeggeri. Intanto oggi le segreterie nazionali di ADL Cobas, Cub Trasporti, hanno proclamato lo sciopero di 4 ore per l'ultima fascia del turno di lavoro, per rinnovo del CCNL, autoferro, tramviere ed internavigatori, perché si tenga conto dei relativi aumenti economici per il trienno 2018-2020.